Di Massimo Turisi mi manca per l'appunto l'eleganza innanzitutto e io poi adoro il non detto più del detto e quindi quella sua capacità di non dire, di sottintendere, di essere complice col pubblico senza bisogno di esplicitarlo ecco quella raffinatezza lì e quell'intelligenza in ogni cosa poi alla fine perché ogni sua annotazione era una perla preziosissima che rimaneva.